Brace, castagne e bottiglia di birra, scarti di cibo insieme alle loro confezioni. D'ormai due settimane già ci ha abbandonato un cumulo di rifiuti dietro al bocciodromo cremonese. Ci siamo recati sul posto dopo la segnalazione dei cittadini che frequentano spesso il parco. Di solito nel fine settimana c'è molta gente che con le pinzette va a raccogliere, anche io e mia moglie, e ci dedichiamo a questa attività. Proprio perché il bene comune è una cosa da tutelare. Io lo frequento spesso col cane e vedo che moltissima gente che viene con i camper al camping, come escono dal camping vedono questo oasi verde e sono piacevolmente sorpresi, perché uno non ce l'aspetta e vederlo così da lontano è bellissimo. Poi quando si fanno due passi dentro magari si vede una bottiglia di qua, una bottiglia di là, una lattina, è un peccato. Vorrei dire che anche il comune di Cremona, che siccome io li vedo che vengono tutti i giorni qua, dovrebbe passare a raccogliere questi rifiuti, quanto tanto che sono pagati. Io sono due settimane che vengo qua e l'ho visti lì, così e così. Dopo se uno porta un panino, non so, magari c'è il rifiuto da vuoto, questo qua è pieno da due settimane e ovviamente la gente li mette lì, li mette lì in terra e dice passeranno o non passeranno, perché l'altro giorno l'ho visti passare e sono andati dritti. Bisognerebbe cominciare a educare i ragazzi a scuola, un'ora al mese, per andare a pulire, quasi dalla media, andare a pulire i giardinetti dove magari il papà ha buttato roba. Un problema quello dell'abbandono di rifiuti a Cremona che sembra in aumento.